1891 nasce Pietro Nenni 1849 sotto la spinta di moti popolari crolla il potere pontificio 1990 de Klerk incontra Mandela prima della liberazione commenta il fatto del giorno Alberto Faustini direttore dell'Adige e Alto Adige se parliamo di accanimento terapeutico di intestamento biologico di eutanasia lo dobbiamo alla triste vicenda di Eluana Inglaro di cui parlo oggi qui è Ed Sullivan